BRIIikeamerabyte, tornati per questo nuovo video di Fortnite ragazzi siamo pale e noi siamo abbastanza scuri non chiedetemi perché ogni tanto mi si bug alla lobby e siamo molto scuri e sto registrando? si perfetto, magari ragazzi due cose a volo dai con il giocatore lo sapete benissimo io ce l'ho? si ce l'ho ancora, perfetto ogni tanto mi si bug anche a me non so per quel motivo soy un pensante di botte le decisioni... lo so, lo so, era una battuta, lo so, voi lo sapete, lo so, ho cooperato con gente magari non facciamo squad magari eh già che siamo scarsi se vogliamo fare due contro quattro la volta buona che moriamo subito subito ragazzi andiamo a provare la skin del Fortnite Crew D che mese è questo? ottobre ottobre dei mesi di ottobre e niente Valerio se vuoi mettere pronto ci fa un favore ah se devi mettere pronto questo gioco per se vuole se non gli dà il tuo pastiglio ah no no allora Valerio come al solito guffe addosso e ci diamo in discesa vuoi vedere che Misty Meadows sarà sotto di noi e ci avrà come minimo anche gli alieni? vedrete voi fra un minuto vediamo dai vediamo ragazzi ma quanto è cattiva sta skin ma è cattivissima poi c'ha sto piccone che mamma mia ti tira gli sberuoli in faccia comunque Misty Meadows è giocabile è giocabile Misty Meadows vai l'hai visto la mappa? ah io ho preso tutto il suo più dentro ecco finito la mia mazza sono vinti ci vorrei avere più mazze e invece una mazza va bene va bene va bene va bene va bene va bene dai 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 5 4 3 2 1 e vai Misty Meadows nananana però poi me lo faranno il pacchetto Misty Meadows Valerio Misty Meadows lo faranno il pacchetto Misty Meadows non so come ma lo faranno farà schifo probabilmente io lo compro comunque perché? perché è Misty Meadows allora Valerio previsione io direi un top 3 con a meno 8 kill insieme dai fattibile dai dai fattibile ne va tempo i cubi gialli e violani ci stanno tirando di quelle legnate i suoi giorni non capisco il perché e poi nascono i cubini allora 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 togliamo il ping tanto a casa mia so dov'è guardate i cubini piccoli guardate i cubettini come sono dolci non c'è nessuno ma veramente vale non c'è nessuno no veramente non c'è nessuno ah no c'è un team ok a me l'ho buono tutto tanto ed aveva fatto posta li misti però a me non c'è ma però strano ci sia solo un team a misto buon salve chiunque tu si è appena iscritto finirei in un video youtube sto registrando quindi dammi un secondo che finisco a registrare e poi ti ascolto mamma mia mamma mia no dai adesso apriam fischio di registrare la partita ti calcolo ultimo alessio scusami se non ti calcolo però ti ho spiegato il motivo quindi spero che avrai un po' d'attesa ma io quasi quasi andai Valerio sparano non d'altro che sparano ma sparano a te sparano a te o ad altri si si a me a me a pazzi altri morto morto grande Valetron come sembrava grande mi compro il assalto blu e sono da lei tantissimo cash tantissimo non so di cose parlando Valerio sto leggendo la chat si ho detto che sono un babbo un nabbo che non sono buono vabbè nulla di nuovo ha detto quanto stai male ah si si sto parecchio male ecco questo me lo dico in tanti ogni tanto tu sei tutto il matto si lo so ma libertà è per questo se no ciappa 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 mangia ecco ragazzotti fate come il buon cascia a me che si chiama iscrivetevi anche su twitch dai basta dove vai vieni qua vale vuoi un assalto blu io ho trovato uno scaracca a viola perché il tipo se vuole non devi neanche comparselo niente esploso uno ma come? è esploso Valerio dago grazie mille grazie mille l'hai visto? no mi hai capito dov'è che? ma dov'è? ah l'ho visto è esploso c'è ancora vieni 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 lo visti? mi sa che sono kill facili queste vale E poi non devi sparare Ma devi sparare loro Infame Io non ci sono ancora Uno giù Devo ancora arrivare io Un altro giù Sono morti 25 left Vale te che ti spari Non c'è l'altro Non mi spetta Lo mi ha sacchilato Girato giù Questo Stavolta non era scarso scarso Grande Vale Buono 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 Vale qua c'è una big Ancora quella a portare via Quando vuoi Che stupidi buffi Grazie mille per il follo Chiunque tu sia Finirai in un video youtube Probabilmente Perché la partita È di restente Quindi la porto a prescindere Vale Spari Da me Ok Vieni dentro con me Sono in diretta buggata Lo vedo Fanno via in macchina Aspetta eh Grande vale Mamma mia Questa volta Mi ha salvato il fondo schiena Stavolta Mamma mia Mamma mia Mi serve un medikit adesso Carico tutto? Sì Sono qua sotto Ma non so dove Tutto carico Tutto carico Citrazioni a vecchi video Se non lo avete visti E dovete guardare Ok Almeno vedo un po' di più Eccoli qua vale Vai vai Spamma un po' Spamma un po' Buono Basta Basta Non da 5 Blu 999 Grande vale Ho visto Ho visto Ho visto Vieni con me Qua spalata noi Non si No Mortu Mortu Ru 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 wi Ok vale Vieni con me Nono questo Nono anche questo Nono anche questo Nono anche questo Nono nono Dai Sticcavo di lancia ragazzi No dai non lo consiglio E sei pure ammazzato I babbo Colanciati si è ammazzato E' rimasto uno contro uno 10 kill Però 10 kill Terzo posto ragazzi L'avevo detto l'abbiamo fatto L'avevo detto l'abbiamo fatto Ottimo ottimo Ragazzotti Vi ringrazio la visione Vi ricordo di commentare se non vi piace Se non vi ringrazio il video Scrivetevi al campanile Adesso questo vi saluto E addio Vi ringrazio la visione Vi ringrazio la visione Ciao Ciao